Ed eccola qui la Huracan STO Super Trofeo omologata per i dieci anni, la versione speciale della Huracan che ha delle caratteristiche diverse rispetto alla versione base. Rimane il 5.002 di cilindrata, 10 cilindri, vuoto da 640 cavalli con 565 Nm a 6.500 giri, quindi una coppia incredibile, ma poi soprattutto la differenza sta nell'assetto, nel kit aerodinamico, è il fatto che per essere una vettura stradale monta il roll bar, quindi ha delle caratteristiche corsaiole sportive da cui deriva. Ed eccola qui nel dettaglio questa STO, notate i profili tutti quanti in carbonio, l'interno che poi andremo a vedere da vicino, la presa d'aria del 10 cilindri, le griglie, soprattutto l'ala posteriore, quindi è una vettura stradale ma che conserva le caratteristiche corsaiole con doppio scarico a Caprovic in titanio e scivolo con aerodinamica attiva Lamborghini come è sempre stata da quando è stata introdotta la versione trofeo, ma la cosa che stupisce è la cura, il dettaglio e i particolari, una vettura che merita di essere scoperta, ed eccola qui, dagli interni, roll bar tipico della gabbia, però ripeto è una versione stradale, corsante d'accensione con il gambietto, volante ovviamente stradale non è da corsa con le leve, la scritta STO coltricolore, quindi super trofeo omologata, decennale pedaliera in alluminio e aggancio dei sedili. Prezzo? Beh al momento ancora non si sa, cercheremo di saperne un po' di più però intanto guidiamoci in anteprima questa vettura che merita perché come tutte le Lamborghini è un'icona. Ed eccola qui, Lamborghini Huracan STO Super trofeo omologata SC10, ovvero l'anniversario della squadra corse, una vettura un'icona come tutte le Lamborghini.